Benvenuti ad una nuova puntata del Gizzi in Italia Show. Oggi siamo con Marta Cavalli perché vogliamo scoprire di più sulla vita di una ciclista professionista. Ciao a tutti, grazie per l'invito e buona visione. Lead story! La lead story è degli ospiti o del maranga, io non ho i diritti per poter pronunciare questa frase, ma cominciamo. Marta, piccola introduzione. Sei andata fortissima il Giro d'Italia donne appena concluso, sesta assoluta prima delle italiane, prima delle umane dietro all'SD Works nell'arrivo al Matajur, la penultima tappa. Raccontaci un po' come è andato intanto il Giro prima di interrompere i dettagli della puntata di oggi. Forse l'appellativo prima delle umane è quello che più mi dà soddisfazione perché veramente le ragazze dell'SD Works sono apparse forti, superiori e hanno umiliato il gruppo. Quindi sono soddisfatta della mia prestazione, ho ricevuto tanti complimenti e questo in prospettiva mi dà tanta fiducia. Sì, anche perché sei giovanissima, sei nel 98. L'anno scorso il Giro d'Italia sei arrivato a 14esimo, quest'anno ha migliorato tanto il tuo piazzamento. Con una crono squadra un po' migliore magari riuscivi anche ad arrivare al quinto posto, comunque potrei migliorare ulteriormente. C'è davanti il clan delle olandesi più la Molma diciamo e la Degna, però diciamo sei lì, sei subito dietro a queste super forti. Sì, di 10 tappe 8 sono state vinte, 7 sono state vinte da olandesi, quindi hanno messo un bel segno, hanno lasciato il solco, però non mi lamento, a parte la prima crono dove ho stata sfortunata, metà bucato e andiamo, non andiamo, andiamo, non andiamo, era già caduta il capitano Ludwig in partenza, al momento hanno deciso andiamo e sono rimasta da sola, ho provato comunque a salvare il più possibile, ho fatto una crono perché un po' avevo paura del tempo massimo, non mi era mai successo di staccarmi in una crono, alla fine ero tra le atlete che doveva portare la squadra all'arrivo a trovarmi da sola, mi sono sentita un po' spiazzata, però poi già dal giorno dopo ho avuto l'occasione di riscattarmi. Sì, hai fatto vedere chi comandava in squadra, sì, vabbè a parte quello, poi quando si sale contano le gambe e anche se il capitano ne ha meno, mi ha dato carta bianca anche perché era un po' dolorante alla spalla, aveva passato la notte in ospedale, ha detto guarda vai vai fai il tuo e poi vediamo e allora è andata molto bene, sì sì sì, no, è proprio contenta. Raccontaci un po' com'è la vita in una corsa tappe, tra l'altro ricordiamo è la corsa tappe più lunga in assoluto senza giorni di riposo, sia maschile che femmine, perché non esistono corsi maschili dieci giorni di fila, cioè tipo al turno ho fatto nove giorni poi riposo, dieci di fila è una cosa... Allora diciamo, per le donne di classifica non c'è il giorno di riposo, ma il giorno della crono individuale per tanti che stanno nei fondi bassi è il giorno di riposo, però... Se è una crono in pianura, perché è una crono che avete fatto quest'anno, altro che riposo. Quest'anno qualcuno ha detto, no, no, giorno di riposo, giorno di riposo, è andata su, easy, fuori tempo massimo, fuori tempo massimo. La crono scalata è pericolosa. Torna a casa, sì. E no, comunque la giornata, sono dieci giorni, anzi tredici, perché si parte molto prima per provare la crono squadra, per portarsi già sul percorso, sono tredici giorni impegnativi, full gas, dove non c'è un momento, sei impegnati dalla mattina alle 8 e 20, 8 e mezza quando ti svegli, alla sera alle 11 quando spegni tutto e dici, no, no, devo andare a dormire perché domani guardi sull'Anita, che è praticamente la versione femminile del Garibaldi. Dai, questo non lo sapevo, Anita si chiama? Anita si chiama il nostro roadbook. Bellissimo. Guardi e magari 130, 140 km, tu e tu dici, no, no, meglio che vada. Ma quindi cosa succede? Sveglia, colazione, anche voi svegliate più o meno tre ore prima della partenza, dopo più o meno? Allora, le nostre tappe sono tutte collocate intorno, come orario di partenza, intorno al mezzogiorno. Quindi sì, tre ore prima si cerca di fare colazione, poi a volte c'è il trasferimento più lungo, quindi ti svegli prima, però non sono una che dorme tanto, quindi alle 8. Quindi fai una precolazione prima? No, no, alle 8 magari mi sveglio, inizio a preparare un po' la borsa, lo zainetto e le valigie, perché si cambia hotel ogni sera, quindi prima di lasciare l'hotel si consegna la valigia al massaggiatore che la riporta direttamente all'hotel successivo. Quindi preparo le mie cose, poi verso un quarto alle 9, alle 9 ho sempre fatto colazione, il tempo di andare in camera, attaccare il numero, zainetto e si parte alla partenza. Foglio firma, gara, si arriva, pulma, hotel, massaggi, cena e finita la giornata. Bisco qualcosa da mangiare intanto che massaggi, eccetera, cena e basta. Il tempo di stendere il bucato che deve asciugare per il giorno dopo. Ve lo fate voi? No, no, però sì, ci portano la retina che è un po' umida a volte, quindi la metti a stendere, al mattino riprendi quelle cose lì e metti nello zaino e si parte. Vi ricordo, mi ricordo le camere dei ciclisti quando vorrevo anche io, tutti gli appendini strano agli armadi erano per appena tutte le cose. Gli armadi, la televisione, dove c'è spazio, nel bagno, poi ti capitano quelle stanze un po' piccoline, poi eravamo a Domodossola per la cronoscalata, eravamo in un hotel piccolino, abbiamo dovuto giocare a Tetris con le valigie, una sul tavolo, una sotto. Beh, ma è come i Formula One in Francia e Campanile. Insomma, che ti mettono su tre letti a castello, è capitato, è una volta. No, ma io ho provato ad andare in un hotel dove la valigia potevi aprirla solo sul letto, quindi devi scegliere se dormire o usare le cose nella valigia, cioè devi alternare le... No, no. Ma invece nella vita di tutti i giorni come la gestisci? Cioè, immagino, beh, parte fondamentale l'allenamento, però la resta della giornata cosa fai? O meglio, partiamo dall'inizio, cioè. Quando ti puoi scenderti? Mattina, pomeriggio, da sole, compagnia? Mattina, assolutamente. Mattina, adesso che... Per tanti anni sono andata a scuola, quindi mi sono sempre allenata al pomeriggio. Di corsa, che viene buio, d'inverno. Esatto, in inverno soprattutto, però adesso al mattino, nove e mezza, dieci, si parte in bici, tre ore, quattro, torni pranzo, poi al pomeriggio dipende. Se è un periodo in cui ti stai preparando per una gara, allora c'è da preparare le valigie, sistemare il materiale, oppure mi dedico, mi riposo. Ti avete in zona crema, giusto? Per fare salita devi allontanarti un pochino. Tante volte devo allungare perché devo prendere la macchina, guidare magari mezz'oretta, 40 minuti, fare allenamento e tornare indietro. Quanti giorni fai più o meno via da casa per le gare in una stagione? Sono tanti, penso almeno un terzo dei giorni dell'anno. 100-120 giorni, anche perché ne farai 70 di gara, giorno prima, giorno dopo. Esatto, sì. E com'è che riesci a conciliare poi il resto della vita, insomma? Nel senso si vede i ciclisti come se fossero solo ciclisti, in realtà sono esseri umani e quindi hanno affetti, relazioni, hobby. Bisogna farlo conciliare, diciamo, se uno vuole farlo ci riesce, riesce a conciliare tutto. Ad esempio, a me piace molto cucinare quando sono a casa, che ho tempo, che ho un pomeriggio in cui non ho niente da fare e mi metto lì con calma, smonto la cucina, la rimonto. Smonti la cucina? Eh, perché sono un po' pasticcione. Quindi capita qualche incidente di percorso e niente. Quindi fare la spesa prima per offrare tutti gli ingredienti? Sì, sì, no, ma a volte quando sto tornando chiamo mia mamma e dico mamma domani vorrei fare la torta, c'è la farina, le uova, c'è abbiamo tutto. No, quello manca, vado a prenderlo. Tu sei tesserata per la France TG, una delle nuove squadre World Tour femminili, però fai anche parte delle Fiamme Oro a Polizia di Stato, giusto? Sì, esatto. Com'è che gestisci questa cosa? Nel senso, ti ho visto correre campioni italiane con la maglia ciclamina Polizia di Stato, poi il resto dell'anno sei FDG, giusto? Sì, 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 io corro per tutto l'anno, sono tesserata come FDG e come accordo nel contratto c'è la partecipazione ai campionati nazionali in maglia Fiamme Oro, quindi solamente campionati italiani su strada, cronometro e eventualmente in pista. E adesso stai preparando un'altra maglia, una terza maglia, forse la più importante di tutte, perché stai andando alle Olimpiadi, prova su strada, sei emozionata? Tantissimo, sinceramente nell'ultima parte di stagione tanti mi hanno sempre detto ah però sì, se non vieni convocata sarebbe un peccato, quindi secondo me tu ci sei, però erano tutti se, 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 però quando mi hanno chiamato mi hanno detto guarda Marta, il biglietto per Tokyo te l'abbiamo comprato, al momento ho detto cose. La crimuccia, vabbè, ma le Olimpiadi, quando è che hai visto la tua prima Olimpiadi, quanti anni avevi? La prima che ricordo forse è Pechino, nel 2008. Deci anni avevi? Sì, sì. Sono vecchio, addirittura l'Atlanta, la cosa è mime. E non correvo ancora in bici mi sai. Eh no, sì, dieci anni. Iniziavo ad approcciarmi, quindi non ho ricordi dell'Olimpiadi, la prima Olimpiadi di ciclismo mi ricordo Rio. Però, ah cavolo, proprio Londra non te la ricordi, no? Poco, poco. Però questo per dire che le Olimpiadi trascende alla fine disciplina, è un evento... Sì, sì, no, non mi ricordo come evento... Uno sportivo di qualsiasi sport è una cosa... Ho sempre ammirato l'atletica, Volt... Ti invidi un sacco lo sai. Tornando un pochino sul tema della Leastore, abbiamo fatto un'intervista a Milano, a Giro d'Italia Femminile, a una tua ex collega, ora direttrice sportiva della Trek, Giorgia Bronzini, su come gestiva all'epoca la sua attività e come gestisce adesso i tanti atleti che segui. Prima a sentire. Allora, Giorgia, quando correvi in bici, come gestivi una settimana tipo di allenamento? Ma intanto bisognava capire qual era l'obiettivo della gara della domenica e capire un po' com'era il percorso. Facevo 3-4 giorni di carico intervallato a sforzi aerobici e anaerobici e poi, vabbè, la mia caratteristica era lo sprint, quindi ovviamente lavoravo un po' sullo specifico e poi facevo 2-3 giorni di scarico per l'evento. E quando dovevi conciliare anche in periodi di pista, che magari stavi preparando un grande appuntamento, cosa cambiava nella tua preparazione? Beh, consideravo sempre la giornata in pista una giornata di carico perché quando ci si muoveva per andare al velodromo erano sempre ore di allenamento e specificità del movimento, cioè era un giorno di carico sicuramente, stavi tra 4 ore in pista e le pedalavi quasi tutte, quindi lo utilizzavo come giorno di carico e giorno di distanza, diciamo, perché anche a livello mentale era stressante. Dopo percorso tanti anni in bici sei passata al ruolo di direttore sportivo, com'è questo ruolo? Come ti trovi a guidare le atlete? È conflittuale perché a volte mi verrebbe da mangiare le ruote della macchina e spingere le ragazze, a volte condivido i loro sacrifici, i loro sforzi e a volte mi rendo conto che chiedere sempre, mi metto sempre nei panni un po' del corridore, quindi sì chiedere ma sempre col margine di capire che umanamente parlando lo stress può avere ovviamente una nota negativa sulla prestazione, quindi pressare l'atleta al punto giusto e riconoscere i punti forti di quest'atleta, da esaltarli e aiutare a colmare i margini nei suoi punti deboli. Vediamo le foto caricate sull'app di GCN, chi vince i premi questa settimana, al terzo posto vince un cappellino. Abbiamo Matteo Roccato, complimenti, che ci manda la sua foto commentandola con quando ti alleni per un anno di seguito per dare tutto in un'unica giornata, questa è stata la mia Iro, complimenti. È una bella corsa di mountain bike, forse una delle più belle al mondo e anche la foto merita. Eh sì. Quei percorsi qua ti fanno avere voglia proprio di andare in mountain bike comunque, magari perché sono sempre il bitume della strada. Ma ti dirò, in montagna così è bello anche la strada, quando scali i passi dolomitici è sempre fascino. Al secondo posto vince una t-shirt e due borracce, Michele Manzoni 87. Pedalata mattutina prima di andare al lavoro, che pace, che invidia. Tra la foto. Riuscire a beccare così, fare il motoscafista, cosa fai di lavoro? Per essere il percorso di casa a lavoro. Magari di passaggio. No, non penso che viva dentro quella d'Arsia. Allora, al primo posto vince una felpa, una t-shirt e una tazza di vetro GCN. Nuovi premi, stanno arrivando nuovi premi. Federico Marinone. Yes, una giornata magnifica su una salita epica. Mi sembrava di pedalare con tutti i campioni che l'hanno affrontata. Si trova sul Mont Ventoux. Quindi rimaniamo in tema. Immagino tutte le scritte che sono in terra. In effetti, a me è silenzio. Io non ho mai fatto questa salita, ma deve esserci un silenzio a farla senza alberi, senza nulla. La cosa, esatto, che impressione è quando sparisce la vegetazione. Salitaccia. Cosa da non fare in gara. Passiamo al Parco Bici. Sai che sono un po' precisino su queste cose? Sì, lo so, la pedivella deve essere giusta, il rapporto 53-11. Allora, come giudici, questa foto di Alberto Pacere, la sua Cinelli Superstar Disc. Beh, direi che non c'è nulla da dire. Ci siamo. Perfetta, quindi... C'è una valvola avanti e indietro, però... Ma no, ma vedi, sono anche allineate. Giusto, c'è un full con sopra, l'altro sotto, va bene, va bene, va bene. Promosso, promosso. Sì, sì. Continuate a caricare le vostre foto sull'app di GCN, tutte le settimane prenderemo le tre migliori foto e le premieremo. Ora GCN Italia Tech. Leggiamo il commento di Davide Bald, prova a leggerlo te. Allora, ci chiedono. Al risponde e Giorgio risponde. Come mai i guanti di Pogacar sul palmo hanno solo un tessuto leggerissimo e non le imbottiture? Lucia, hai obbligo ai ciclisti a utilizzare i guanti oppure è questione di sponsor? Lucia non obbliga assolutamente, no? No, no, no. È molto consigliato perché... Sì, perché in caso di contatto con l'asfalto non è simpatico avere i palmi delle mani a brasi. Anche perché con le ginocchia e i gomiti sbucciati si corre e con le mani... No, diventa complicato. E impugnare poi il manubrio. Quindi diciamo che anche io quando correvo... A me non piace usare i guanti, nei video di GCN sia io che a non abbiamo mai guanti, però quando facciamo le gare avevamo sempre i guanti perché se è caldo il giorno dopo non riesci più a partire. Anche perché le mani le metti sempre giù. Anche io mi alleno senza guanti però in gara sempre. Anche facciamo il segno sulle mani delle bronzature devastate. Sì, ma infatti ho questo bel segno dopo dieci giorni. Comunque abbiamo trovato delle immagini, sì, in effetti Pogacar sembra che non utilizzi spessori. Secondo me è perché preferisce il contatto naturale come se non avessi i guanti, però ha uno strato di pelle che è un altro materiale simile che è un minimo di protezione. Sì, giusto un minimo. Però diciamo che non è obbligatorio, quasi tutti li usano, qualche coraggioso ne li usano. Mi ricordo un tombone in Parigi rubai senza guanti, da eroe. Mi immagino le vesciche. Sempre riguardo al tè, questa settimana abbiamo trovato una foto della Facto del Team Israel che durante il giorno di riposo al tour si sono messi delle ruote a cinque razze. Penso una questione mediatica, per fare un po' di notizie. Anche perché sono vietate, ma in effetti se io fossi un amatorazzo che piace andare in giro così in bicicletta, una bella ruotina così a cinque razze, ci penserei molto cool. Stilo andare al bar la domenica. Un po' tamar, ma non mi piace, non è male. Continuate a scrivere le vostre domande tech con l'hashtag GiorgioRisponde, AlanRisponde, GsInItaliaRisponde. I tuoi commenti. Partiamo con Davide98, aspetta un attimo che va un disastro. Devo tenere il font piccolo perché se no... Allora, i telaio della Lapierre sono meravigliosi, a chi possiamo chiederlo meglio che a te? Condivido, non posso dire di no. Veramente, sto provando il nuovo telaio che uscirà nel 2022 e vi assicuro che vale la pena. È un mix tra all ground e una bici molto aerodinamica, rigida e... Ma io avevo detto qualche puntata fa, non mi ricordo dove, che ero curioso di provare la Lapierrere forse più di qualsiasi altra bici perché hanno questi fodri posteri che entrano all'orizzontale, con il piantone un po' scollegato. Un po' un tratto distintivo, ma devo dirti che in discesa è guidabilissima. Un miglioramento pazzesco. Eh, se un po' piccola sa me la prestavi. Beh, però dai. Gli richiederò a Jacopo se lo vedi in giro. Emanuele Fossati, Giorgio, cosa sono le fughe bidone? Non trovo nulla sul web. Rispondi, per favore. Eh, la fuga bidone è quando pronti via va via una fuga che ha solo scopo pubblicitario, cioè che si sa già che tutti i corridori in gruppo eppure chi è nella fuga sa che verrà ripreso. Però a volte la fughe bidone va all'arrivo anche con grandi margini e succede che magari qualcuno mette la maga del leader della classifica qualche giorno, insomma diventa l'eroe della fughe bidone. Esatto, però la fughe bidone è caratterizzata di solito da atleti non di primo livello. Che sanno che vanno e verranno ripresi. Renato Panigada. Le gomme blu sono stilose, ma una curiosità. Quando un corridore cambia la bici, come fanno con i transponder? Sai, questa cosa non la so bene neanch'io. Voi avete un transponder giusto sulla forcella, quando si cambia la bici, la bici va sul tetto della macchina e quella di scorta non ha il transponder. Esatto, quando viene cambiata la bici la giuria prende nota di questo, quindi quando verrà visionato l'ordine d'arrivo mancherà il transponder, però la giuria comunque ha la segnalazione e verrà riavvolto il fotofinish per vedere dove è il corridore. Vai tu a Black Bug. Alan e Giorgio risponde, come si zavorra la bici da pro? Come al solito, ottimo video, vi seguo da sempre ovunque, non vedo l'ora di vedervi con Bragotto. Bragotto, aspettate che mi fira un video con Bragotto. Come si zavorra una bici? Ho visto un po' di tempo fa che zavorravano, quando non c'erano ancora le dische, tutti i bici rim brake, li zavorravano spesso. Mettevano dei piombini da pesca legati nel tubo del reggisella. Sì, sì, viene messo un piombino. Piombino, che zavorra. Penso che attualmente non lo faccia nessuno, se non forse la Ineos, nel campo maschile con i freni tradizionali, quando montano le ruote leggerissime, forse riescono ad andare sotto. No, nel nostro caso con i dischi non c'è problema. Si sta attenti, però si arriva lì, precisi. La furia. Preferiamo il ciclismo femminile a quello maschile. Change my mind. Grazie mille, questo è un complimento, grazie. Stefano Sacchetti. La domanda nasce da una risposta non proprio carina di un utente ad un mio commento fatto nella vostra intervista a Fausto Pinarello. Ormai avete provato e utilizzato tutti i gruppi top sul mercato. Visto che voi siete fuori della logica pubblicitaria del marketing, potreste darci la vostra opinione sui vari pro e contro di questi gruppi e su quali siete trovati meglio? Grazie. L'ho detto un po' di tempo fa, a me piace tantissimo Shimano, l'ho sempre usato, cambio che preferisco, adesso sto usando anche Campagnolo. Mi piace il fatto di poter smanettare con l'app e cambiare anche i tasti, quali tasti usare per cambiare. Però secondo me, voi usate Shimano, siete sponsorizzati Shimano tra l'altro? Cioè fa capire una cosa, lo dico proprio perché non siamo legati a logiche di mercato. Nei professionisti ci sono, mi sembra, due squadre sponsorizzate, una SRAM, tre Campagnolo e le altre Shimano mi sembra. Tutte quelle che non sono sponsorizzate da nessun brand, che devono comprare i gruppi, comprono Shimano. Quindi dovrebbe un po' far capire... Sì, ha un po' l'affidabilità di eccellenza. Sì, sì, sì. Leggi tu dai, Lorenzo Simonetti. Io spesso ho messo il talco nella camera d'aria prima di montarla, sul consiglio di mio padre che l'ha sempre fatto. A suo dire serve soprattutto per montarla meglio ed evitare pezzicature. Io nel dubbio lo faccio. Te l'hai mai sentito questa cosa di mettere il talco? Sì, sì, perché al momento di gonfiarla la camera d'aria non va a contatto con il copertone, quindi non si incolla. Scivola meglio anche. Inizio a montare il talco. Cioè a corso in bici, una vita non mi hai messo il talco nelle camere d'aria. Bene, bene, si impara ancora. Ah, questi sono i trucchi quelli vecchi, vecchie. Massimo Bertan, avete ragione, inerente alla track delle ragazze con la luce del sole. Stupenda, vista ieri la partenza di colico del giuritale femminile, la bici di l'esolongo, Borghini. Mi sa che mi farò un regalino, ciao, tutti siete simpaticissimi. Tu l'hai vista dal vivo la track, Zaffiro. Sì, e vi posso dire che veramente dà fastidio agli occhi quando c'è il sole. È abbagliante. Ve lo posso assicurare. Sì, 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 ma veramente forte. Poi capitano che loro corrono proprio insieme, in gruppo, quindi hai un fascio di luce che è tipo questo qua che c'è in studio. Però per l'amatorazza che gli piace la bici colorata, è un regalino proprio piccolino piccolino. Allora, Italo Francesco Rossi, ma poi si è scoperto il perché della scelta Inos riguardo ai freni tradizionali? Scelta tecnica o di marketing? Meditate, gente, meditate. Allora, questa è una cosa che finché anche Inos non mollerà ai freni tradizionali, tutti saranno a dischi, si continuerà a discutere. Ma lo fanno semplicemente perché attualmente creando una bicicletta, soprattutto oltre a una certa taglia, che sia rigida, performante dal punto di vista della rigidezza, con i dischi nessuno è riuscito ad arrivare a 6,8 kg. Insomma, abbiamo visto tantissime biciclette che sono andate a pesarle, sono tutte sopra, 7 kg, 7 dure, più leggere. Quindi la Inos dice, sapete cosa c'è? Noi vogliamo una bicicletta rigida, rigida, ma che sia 6,8 kg. Esatto. Usiamo i rime, sono scelte, attualmente è così. Esistono i bicicletti con i dischi che arrivano a 6,8, ma probabilmente non sono così rigide come le vogliono i prof. Ultimo commento, Andrea Netto. Quando corrivo nel Giovanili, su Rintel Live, il mio allenatore ci faceva impazzire con l'agilità. Diceva che poi era più facile spingere rapporti lunghi e in effetti poi in gara sentivamo un guadagno. Ora da ciclo plebeo, ingrassato, mi domando se, senza volere imitare Froome, agilità, frequenze sopra le 95-100 RPM mi possono tornare utili. Siete mitici, ormai i vostri appuntamenti video sono divertenti, grazie. Ma allora diciamo che dei disorienti allievi, il motivo per cui si fa andare agili è anche perché i rapporti limitati. Esatto, quindi più sei abituato a farlo andare veloce e più produci velocità. Anche perché i rapporti per spingere non ce ne sono, salite ce ne sono poche e se non vai agire sei fermo, sei inchiodato. I rapporti sono limitati proprio per questo, per spingere i ragazzini a migliorare l'agilità, anche perché è una capacità che se non si migliora prima dell'adolescenza, poi gli uffici di migliorare. Da adulti, diciamo, secondo me già il fatto che l'hai fatta esilmente allievi, hai un background che ti aiuta ad andare agili adesso. Abbiamo fatto un video a proposito della cadenza, di fatto la cosa migliore è andare alla cadenza in cui ti senti confortivo. A meno che non stia facendo un lavoro specifico, se vuoi ottenere una buona prestazione, se ti senti di andare a 90, a meno avanti, se ti senti di andare a 100, vai a 100. L'importante è non andare sotto le 70 e basta. Perché se no ti incatrami tutto. Non arrivi più a casa. Commenti di questa puntata sono finiti, continuate a scriverli. Certo. Sondaggio della settimana. La settimana scorsa vi abbiamo chiesto quali sono le innovazioni tech che vi interessano di più. Il 20% di voi ha detto ruote, il 30% i telai, il 10% i copertuncini e camere d'aria, insomma pneumatici e il 40% gruppi o componenti, anch'io ho votato gruppi o componenti, soprattutto adesso che si sta uscendo il 2x12 velocità, insomma, sono tutti un pochino in attesa di questa cosa. Vi chiediamo questa settimana, anche in base a quello che abbiamo detto nella domanda tech, usate i guantini in bici? Sì, sempre, no, mai, solo in gara o in discesa? No, abbiamo già risposto. Gara. Potete rispondere a questo sondaggio sull'APTCN. CAPTION CHALLENGE. Ottimo. Allora, vediamo chi ha vinto la CAPTION la scorsa settimana, c'era Ballerini e Sweeney, con Ballerini un po' perplesso, con la sua borraccia. Allora, ha vinto Federico, dicendo, Ballerini, eh, mai birra? E lui risponde, chi te l'ha passata il rifornimento? Mi sa che era a Baragotto. Noto alcolizzato ciclista, no, no, salutiamo, come sapete uscirà un video con lui bellissimo. Tra un po' dovete avere pazienza. Vediamo la foto di questa settimana. Qua sono tu e due colleghe. Sì, sì, siamo noi durante la cronosquadra. Cosa c'è? Che si chiama quella dietro? Egeni Duval. E' la Duval che stai dicendo quella davanti. Oh, molla che c'è Marta staccata. Se no, è libera interpretazione, potete vedere un po' che titolo da dare a questa immagine. In particolare, non ho mai visto questa posizione della mano di una cronosquadra. dovresti chiedere a Duval cosa stesse facendo. Penso, stesse indicando la rotonda a destra. Ah, ok. Quindi adesso indicazioni a chi era dietro in posizione. Vabbè, volete fare finta di aver sentito delle date interpretazioni più tragicomiche. Sì, esatto. Via con la sfida. In conclusione, vi ricordiamo che su GCN Plus è possibile vedere l'ultima settimana il Tour de France, sia in diretta che gli E-Lights che in differita ovviamente. Disponibile il 18 luglio anche la course by Tour de France e la volta a Limburg. Io vi saluto e vi ricordo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di seguire questi ragazzi. Bravissimo. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Grazie Marta. Grazie a voi. Benvenuti a una nuova puntata del GCN Italia Show. Oggi siamo con Marta Cavalli che... Vedi? Fa così. E il sondaggio della settimana è... Non avevo proprio sondaggio della settimana. A vincere Federico... Ehi, ma... Ma è... Ma facciamo?